Si evidenziano gravi irregolarità. Potrebbe essere questa la sintesi dell'analisi della Corte dei Conti in merito alla gestione finanziaria del Comune di Tortora, a darne notizie il gruppo consigliare Progetto di Sviluppo, ma come informato dal Comune se ne discuterà nel prossimo Consiglio, in programma per lunedì prossimo. E non è il caso di fare allarmismo, perché l'amministrazione ha chiarito già ogni passaggio con la Corte. Dalla minoranza informano infatti che la sezione regionale di recente è intervenuta con un proprio deliberato sulla stabilità economica dell'ente amministrato da Lamboglia. I consiglieri candidati e i sostenitori di PDS hanno riportato alcuni passaggi dell'atto in un volantino. In effetti, quanto evidenziato dal documento, è un quadro fortemente critico, come spiegano dal gruppo. La nostra compagine aveva già analizzato la contabilità e temeva al peggio. Oggi la Corte non ha fatto altro che fare chiarezza sulla gestione. Nella delibera 60 si parla di irregolarità ritenute sintomatiche di inefficienza finanziaria. Ciò spiegano dall'opposizione contrasta con quanto detto dal Palazzo Municipale. Corte, come riportato nel volantino che afferma come gli equilibri non risultano correttamente rappresentati perché inficiati da errori. E nel virgolettato si legge dell'altro. I dati evidenziano situazioni preoccupanti, come l'incapacità di realizzare in termini di cassa quanto accertato e ancora peggio il ricorso allo stratagemma di sovrastimare gli accertamenti di competenza. E poi, dulcis in fundo, non è stato rispettato il patto di stabilità interno. Per questo motivo nel 2016 scatta la sanzione prevista, cioè niente assunzioni o mutui. Sono questi alcuni degli aspetti che risaltano dal manifesto, ma come spiegato dall'ente se ne discuterà nel Consiglio. Tra i punti all'ordine del giorno, le determinazioni proprio in merito alla deliberazione per i rendiconti degli anni 2012 e 2013. A delineare invece la posizione dell'amministrazione, l'assessore al bilancio e vice sindaco Filippo Matellicani. Su alcuni rilievi c'è stato l'abbaglio della Corte e ha detto, per altri, c'è l'azione di convergenza. Insomma, sono aspetti pratici e gestionali che non ci preoccupano, anche perché sono aspetti che monitoriamo costantemente, anche d'intesa con l'ufficio Tributi. Ad esempio, per quanto riguarda il riaccertamento dei residui, ci siamo attivati creando un fondo di passività potenziali. E ancora abbiamo previsto nel bilancio corrente una sezione per queste eventualità. Altro passaggio inesatto, ci ha spiegato infine Matellicani quello che indica il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, come anche l'aver sforato il patto di stabilità interno. Non è vero, non corrisponde alla realtà. Ogni cosa è stata comunque affrontata e abbiamo attivato un confronto con la Corte. Di questo ne avremmo potuto anche discutere con l'opposizione, se soltanto avesse chiesto, anziché di provocare dell'inutile allarmismo. Grazie a tutti.